Il gruppo del PD alla Regione è tornato a ribadire la necessità di procedere all'istituzione della società unica dei trasporti. Intanto, come affermato in conferenza stampa Camillo D'Alessandro, capogruppo del PD alla Regione, si procede all'istituzione di un ECDA unico e un direttore unico per la prima riduzione dei costi. D'Alessandro infatti ha spiegato che la riforma per istituire la società unica dei trasporti è stata approvata dalla Giunta regionale nel mese di luglio scorso. Da allora però non si muove un passo perché c'è sempre in corso una guerra delle poltrone con tutti che vogliono salvaguardare sedie, sgabelli e soprattutto gli stipendi. Il capogruppo dell'opposizione, dopo aver fatto notare i tagli operati per milioni di euro nel settore dei trasporti dal governo Berlusconi, che solo in parte saranno recuperati con una ulteriore accise sulla benzina, ha affermato che il PD ha chiesto di discutere la legge della maggioranza domani nella seduta della quarta commissione. Adesso voglio vedere se il centrodestra vota la legge dello stesso centrodestra, della Giunta regionale. Noi ribadiamo la necessità assoluta di procedere all'istituzione della società unica dei trasporti. Sono stati tagliati 30-33 milioni di euro sul ferro, 14 milioni di euro sulla gomma. Significa che l'Abruzzo si ferma. Per evitarlo è necessario mettere in campo riforme che riducano i costi e riducendo i costi si possono garantire i servizi. Per capirci, i cittadini non avranno più i servizi pubblici locali dentro le città o tra città e città. Tutto questo irresponsabilmente il centrodestra fa finta di nulla e a fronte di una quarantina, cinquantina di milioni che vengono a mancare non riducono le società dei trasporti che generebbero efficacia, efficienza e economicità.